Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e ben ritrovati a una nuova puntata di Turbo Daily. Oggi parliamo di Fuzzimib e vediamo quello che sta succedendo sull'indice di piazza affari, è importante fare una serie di considerazioni, la prima oggi è il 18 di maggio quindi siamo entrati nella seconda parte del mese e che è la parte diciamo dove storicamente il Fuzzimib tende a lasciare qualcosa un po' di più sul mercato e soprattutto inizierà la stagione dei dividendi o meglio continuerà la stagione dei dividendi con l'ultima parte di maggio dove abbiamo appunto gli stacchi più significativi, questo potrebbe avere un effetto negativo sull'indice, ma non c'è solo questo e dobbiamo andare quindi sul grafico per vedere insieme quali sono le opportunità che si stanno venendo a creare perché anche dal punto di vista tecnico come potete notare siamo arrivati in prossimità di quello che è un massimo, il massimo che aveva toccato qualche tempo fa all'inizio di aprile quindi abbiamo due massimi, ovviamente i puristi dell'analisi tecnica non andrebbero mai a scertare su questi livelli ma io ritengo che in prossimità di un doppio massimo e considerando appunto il momento all'interno dell'anno dove ci troviamo ci sia un'ottima probabilità di andare a prendere uno short da questi livelli con degli stop che potete vedere anche graficamente molto più stretti rispetto a quelli che sono i target potenziali. Andiamo quindi a vedere come fare questa operazione per il tramite dei certificati offerti da BNP Paribas, andiamo sul sito investimenti.bnpparibas.it, vi segnalo tra l'altro che oggi alle ore 17.30 ci sarà House of Trading quindi cliccate su House of Trading per vedere la sfida tra i vari trader con diverse strategie operative oltre a quella appunto che sto proponendo io in questo momento. Clicchiamo su certificati a leva, Turbo Certificate e andiamo nella sezione dedicata ai prodotti. Scegliendo appunto il Fuzzimib avrete 119 prodotti, vi segnalo delle cose interessanti, sono stati quotati i settembre e i dicembre 2021 quindi diciamo è stata fatta una nuova quotazione per diciamo seguire quelle che sono le scadenze dei future appunto di settembre e di dicembre, sapete che i certificati diciamo Turbo spesso appunto si avvicinano a quelle che sono le scadenze tecniche dei future. All'interno di questo scenario io sono andato a selezionare un Turbo Short e come vedete in questo momento ne abbiamo 36, io ne ho preso uno che avesse una leva diciamo adeguata di 8,92 e un livello di knock out abbastanza distante dai prezzi attuali quindi a 27.000 punti. Nello specifico estratto dell'NL BNP-IT 12II4 e andiamo subito in piattaforma a vedere questo strumento al momento quota circa 26 centesimi e mezzo io andrò a inserire un ordine a 25 centesimi quindi leggermente più in basso rispetto a quanto batte il mercato in questo momento. Andiamo a cliccare sul nostro tasto BUY per inserire appunto il nostro ordine pendente, come vedete lo troviamo all'interno del book di negoziazione. Andiamo quindi infine a ricapitolare quello che è il trade che abbiamo proposto nella giornata di oggi, si tratta di uno short sul FTSE MIM per andare a sfruttare quella che potrebbe essere la debolezza dovuta al momento diciamo di calendario nel quale ci troviamo e sappiamo come 25.000 sia stato tante volte un livello critico per l'indice di piazza spalle quindi da 25.500 punti ci mettiamo al ribasso, mettiamo il nostro stop a 25.450 punti quindi con uno stop inferiore al 2% a livello proprio percentuale e il nostro target invece cerchiamo di farlo correre fino a 24.500 punti. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io come sempre vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate. Ciao! 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 Ciao!